ecco una maschera tutta naturale con una caratteristica è super veloce e super facile da fare e si applica per avere una pelle più chiara per fare rientrare prima i brufoli quando danno fastidio e per essere pronti per una fantastica giornata o serata ecco come si fa è una maschera contro i brufoli tutta naturale al bicarbonato di sodio e succo di limone gli ingredienti sono due cucchiai di succo di limone e due cucchiai di bicarbonato vanno mescolati fino a creare una crema piuttosto fluida la crema va spalmata sul viso con movimenti circolari insistendo sulle zone dove sono spuntati i brufoletti poi la si lascia agire per una decina di minuti e alla fine basta risciacquare con acqua tiepida e applicare la propria crema idratante che in questo caso deve essere una crema piuttosto fluida e leggera il bicarbonato ha una funzione esfoliante meccanica mentre il succo di limone oltre ad essere ricco di antiossidanti ha una azione disinfettante e schiarente della pelle quindi insieme eliminano le cellule morte levigano apportano elementi nutritivi fanno rientrare prima i brufoletti ed eliminano le piccole sporgenze che si avvertono sotto le dita quando le si passa sul viso in questo modo la pelle sarà davvero pulita e sarete pronti per una sfavillante serata ti è piaciuto questo video spero di sì perché questa maschera è davvero semplice veloce ed efficace ed ha un grande risultato se ti è piaciuto mi piace condividilo con i tuoi amici o le tue amiche lascia un commento dimmi come è andata la maschera iscriviti al canale per avere altri consigli sempre semplici e naturali alla prossima ciao iscriviti al canale